Di questa giornata io ricorderò il pesce, ricorderò lo snorkeling, il bagno, ma anche le scimmie. Le scimmie che si sono mangiate, la banana, e poi si sono tuffate in acqua. Io non credevo che le scimmie sapessero nuotare. In apnea? In apnea, si sono buttate dalla barca, io non mi buto dalla barca. La scimmia si è buttata dalla barca e è tornata a nuoto a riva. Ora, se qualcuno non mi crede, ci sono dei filmini che lo provano. Che lo proveranno? Che lo proveranno. Perciò, nell'ordine, bagno nella laguna blu, non di Leonardo Di Caprio, ma molto più bella. Bagno nella laguna di Leonardo Di Caprio, si poteva pure evitare, zero. Bagno con snorkeling, 100. Pranzo, adesso siamo pranzo col mare. Pranzo col mare, in una specie di cosa, snack, sopra la spazio. E adesso ci aspetta uno snorkeling su una spiaggia, dove potremmo alternare spiaggia, sole, bagno, snorkeling. Sole, bagno, bagno. Come ci torniamo noi in Italia? Io quando sono salita dalla barca, c'era un inserviente che mi ha fatto la doccia. Manco fosse un badante. E quando gli ho detto, please, i capelli, si è fuori scusato di non averci pensato lui. Non sappiamo come torneremo in Italia. Non lo sappiamo, perché l'altro ieri gli elefanti, ieri il massaggio. Oggi questo snorkeling, domani le cano e le mangrovie. Ma a noi chi ci porta a tornare in Italia? Non sappiamo. Baci a tutti. Saluto la mia famiglia, saluto tutti quelli che mi conoscono. Grazie a tutti.